Buonasera dal TG6, furbetti del cartellino ancora al centro delle cronache a balzare sulle cronache nazionali. E' un vigile di Pescara che anziché andare a lavorare trascorreva le sue giornate al bar o andando a pesca. Il servizio di Alfredo Primante. Era addetto al controllo ambientale ed ecologico del parco d'Avalos di Pescara, invece passeggiava lungomare, andava a pesca con gli amici oppure trascorreva le sue giornate lavorative al videopoker o in agenzie di scommesse. Questa volta, protagonista dell'ennesima storia da iscrivere nel libro dei furbetti del cartellino, è un vigile urbano di Pescara seguito per due mesi dagli uomini della Guardia di Finanza. Il 55enne maresciallo della Municipale timbrava il badge personale nel palazzetto dello sport di Via Elettra o presso l'Aurum contravvenendo alla disposizione di servizio che gli imponeva di timbrare presso la sede del comando della Polizia Municipale di Pescara. E poi, lasciando la divisa d'ordinanza a casa, si dedicava ad altre attività. Secondo i tabulati di presenza, il maresciallo era sempre in servizio dal lunedì al sabato per l'intero turno lavorativo, ma, secondo le fiamme gialle, solo sulla carta. Il sottoufficiale, infatti, sempre stando alle indagini della Guardia di Finanza, durante tutto il periodo di monitoraggio, non avrebbe dedicato all'attività lavorativa neanche un'ora, pur avendo regolarmente indicato la propria presenza sul lavoro e percependo l'intero salario di 1.600 euro. Ieri, al termine delle indagini, i finanzieri del nucleo di Polizia Tributaria di Pescara hanno notificato al maresciallo della Municipale Pescarese l'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Chieti, Luca De Ninis. Per il vigilo urbano i reati contestati sono truffa pluriaggravata per essere commesse in danno di ente pubblico e con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti una pubblica funzione. E sul caso a intervenire c'è stato anche il sindaco di Pescara, Marco Alessandrini, che ha rilasciato delle dichiarazioni dicendo ho appreso con disappunto dell'arresto dell'agente della Polizia Municipale per assenteismo e ho chiesto al comandante Carlo Magitti spiegazioni in merito a questa vicenda se le accuse verranno confermate saremo di fronte a un caso grave su cui sarà la magistratura a fare chiarezza dal canto nostro non possiamo che avallare la tolleranza a zero verso situazioni simili il Comune attiverà tutte le procedure amministrative e disciplinari previste dalla nuova normativa per il caso di specie chi sbaglia paga e ritengo doveroso che chi ha un lavoro, a maggior ragione in un ente pubblico abbia l'obbligo di espletarlo dunque di essere a servizio dell'ente e della comunità come il suo contratto richiede e finché tale contratto lo impegna. Cambiamo argomento, parliamo di sanità. Dopo nove anni l'Abruzzo esce dal commissariamente e ufficializzare la notizia è proprio l'assessore regionale alla sanità. Silvio Paolucci. Il combinato disposto di questi due elementi cioè la crescita sugli obiettivi di salute e dall'altro lato la sostenibilità del sistema ha consentito di esaurire in tutti i punti che erano stati indicati i mandati commissariali. Si tratta allo stesso tempo di mettere in campo una delibera di giunta che proporremo la prossima settimana in giunta regionale che faccia accedere al percorso di uscita con il trasferimento dei poteri il vaglio della conferenza Stato-Regioni e il Consiglio dei Ministri subito dopo. Così prevede la legge, che è la legge 191 del 2009 per capirci la legge finanziaria del 2010. A margine davvero mi piacerebbe che fosse raccolto con soddisfazione da tutti un risultato straordinario che ci vedeva canaglia da troppi anni. C'è un altro pezzo di percorso da fare al centro quello di garantire la qualità e gli esiti delle cure cioè migliorare e elevare la qualità dell'assistenza sempre di più. Oggi ci è più semplice poterlo fare. Io mi auguro che attorno a una proposta si possa organizzare un confronto laddove c'è una proposta. Per due anni non c'è stata. Io penso che gli indicatori che possono dire che si sta facendo bene oppure no sono i livelli essenziali di assistenza che il Ministero non ha inventato perché appunto sono sui generis ma perché appunto sono delle modalità con i quali controllano che tutte le regioni e quindi gli indicatori sono validi per tutti si fanno passi avanti o passi indietro e rispetto ai campi e ai settori della sanità dove si fanno passi avanti o passi indietro. Noi siamo andati molto oltre la riempienza piena di quest'anno abbiamo proiezioni molto importanti che ci fanno dire che ogni anno miglioreremo e dobbiamo migliorare sempre di più. Si torna a parlare del caso dei ricatti e delle tentate estorsioni alla senatrice Pezzopane la notizia è che il fotografo Marrocchi e il giornalista Minucci sono stati rinviati a giudizio con l'accusa di tentata estorsione attraverso documenti scandalistici. Vediamo. Una vicenda assurda e sgredevole è arrivata finalmente ad un primo approdo positivo. Questo è il commento della senatrice Stefania Pezzopane in riferimento al rinvio a giudizio di Gianfranco Marrocchi, fotografo e Marco Minucci, giornalista, insieme ad altre persone per tentata estorsione e danni della senatrice nell'ambito della vicenda sui ricatti e politici. Un tentativo squallido di denigrarmi e danneggiarmi che si inquadra in una vicenda ben più complessa in cui sono stata coinvolta anche con altre figure politiche dice la senatrice come l'ex presidente della regione Gianni Chiodi. Addirittura in qualche intercettazione negli imputati esprimono l'intenzione di coinvolgere anche Giovanni Legnini. Nelle intercettazioni i due esprimono l'intenzione di demolirmi politicamente, dice Stefania Pezzopane, di distruggermi con storie assurde e ricatti, foto taroccate, addirittura con il coinvolgimento di altre persone, in particolare di una donna che avrebbero voluto utilizzare coinvolgendo Simone per colpirmi. Attendo ora serena l'evoluzione del provvedimento giudiziario. La Pezzopane inoltre si interroga sulla gravità della vicenda e se gli imputati abbiano agito per conto proprio o se dentro un disegno che vede il coinvolgimento di qualche avversario politico o di una stampa, dice la Pezzopane, abituata agli scandali inventati di sana pianta. Il Tribunale Civile ha dichiarato lo stato di insolvenza della Carichietti e intanto oggi termina la possibilità di avanzare offerte di acquisto per la nuova Carichietti nata dopo il salvataggio del governo. Il servizio. Nel giorno in cui scadono i termini per la presentazione delle offerte di acquisto della nuova Carichietti e delle altre tre nuove banche nate dopo il salvataggio da parte del governo, per il vecchio istituto di credito teatino si aprono le porte dello stato di insolvenza. Infatti il Tribunale Civile di Chieti ieri ha emesso la sentenza per la Cassa di Risparmio in liquidazione coatta amministrativa. I magistrati però, nelle 62 pagine con cui argomentano la decisione, esprimono riserve sulle valutazioni presenti nella documentazione prodotta da Banca d'Italia e dai commissari straordinari che hanno guidato la Carichietti prima dell'intervento di risoluzione lo scorso novembre. Secondo i magistrati il crack è stato dovuto sì alle perdite circa 150 milioni di euro nel biennio 2014-2015 ma avrebbe influito in maniera pesante la svalutazione finale sui 243 milioni di crediti per i quali il Tribunale però non è stato in grado di fornire una valutazione di congruità perché, scrivono i giudici, le richieste del Tribunale sono rimaste sostanzialmente in evase. I giudici quindi si sono dovuti basare sulle conclusioni e sui dati forniti da Banca d'Italia e dai commissari arrivando così a dichiarare lo stato di insolvenza richiesto proprio dall'autorità di vigilanza. Dunque l'insolvenza è stata dichiarata a seguito dell'operazione di risoluzione che ha trasferito la parte sana della banca nella nuova entità oggi offerta al mercato. Infatti i giudici scrivono che in atti non vi sono elementi che consentano di affermare l'esistenza dello stato di insolvenza al momento dell'avvio della risoluzione. Al di là dei tecnicismi, il tutto potrebbe rappresentare un punto a favore della difesa dei vecchi amministratori di Carichietti Roberto Sbrolli, Ennio Melena, Giuseppe Di Marzio e Giuseppe Di Martino che si erano opposti alla richiesta di stato di insolvenza. Ma quindi Carichietti poteva essere salvata. Per i commissari servivano 150 milioni di euro di ricapitalizzazione che non arrivarono mai né dalla fondazione né da altri finanziatori come Banca Intesa, BCC Roma, Popolare di Bari o Fondazione Pescarabruzzo. Un azionista nuovo avrebbe dovuto sempre secondo i commissari portare soldi freschi e recidere il filo degli interessi localistici nella gestione della banca. Visita istituzionale questa mattina da parte del nuovo questore di Teramo Enrico De Simone al procuratore della Repubblica di Teramo Antonio Guerriero. Il servizio di Elisa Leuz. Procuratore, oggi l'incontro con il neocuestore di Teramo un curriculum importante alle spalle a cui chiede la collaborazione. Sono lieto della presenza del signor questore di Teramo che confido naturalmente nelle sue eccezionali capacità professionali e quindi riuscirà sicuramente a dare impulso all'attività della questura di Teramo continuando il lavoro incomiabile fatto dal suo predecessore e quindi sono certo che la sinergia tra la magistratura e la questura di Teramo che già esiste si continuerà se non si accrescerà ulteriormente. Pochi giorni a Teramo, l'incontro oggi con il procuratore che tiene molto alla collaborazione tra le forze dell'ordine. Assolutamente sì, io voglio ringraziare proprio pubblicamente il procuratore per questi attestati di stima ma soprattutto per gli attestati di stima che ha avuto nei confronti della Polizia di Stato e anche del mio predecessore. Sicuramente raccolgo l'invito a una massima collaborazione per noi è importante avere questo punto di riferimento stabile nella Procura della Repubblica che per noi rappresenta un esempio da seguire e da seguire nelle direttive che ci verranno di volta e volta impartite soprattutto in questo momento in cui i reati sono tanti da reprimere nella zona costiera soprattutto. Sono anche stimolato dal fatto che il procuratore viene anche da una lunga esperienza di contrasto alla criminalità organizzata e quindi per noi è sicuramente anche un esempio da seguire. Da oggi la protezione civile di Teramo ha in dotazione un mezzo Elfo 4.0 cingolato per arrivare nelle zone più impervie e spegnere anche gli incendi. La Regione Abruzzo tra le associazioni di volontariato ha scelto la Cives nel Teramano. Vediamo. Siamo orgogliosi di avere l'assegnazione per il 2016 di questo mezzo, l'unico nella provincia di Teramo è un mezzo particolare, noi lo chiamiamo lo abbiamo sovranominato la piccola peste non è nient'altro che un mulo meccanico che permette di raggiungere ogni località è un mezzo elio trasportabile nella malagurata ipotesi che dovessero accadere degli incendi boschivi in zone impervie laddove prima si attendeva che bruciasse il bosco con opere soltanto di circoscrizione in questo momento siamo in grado invece di operare non appena le fiamme si sono abbassate per opera dei mezzi aerei con questo mezzo speciale. Oggi annoveriamo ben 20 volontari in possesso dell'attestato AIB secondo livello è un termine tecnico ma sono volontari che sono stati formati e hanno l'idoneità fisica e tecnica per stare sul fronte del fuoco. Ricordiamo quanti volontari conta la Cives? La Cives conta 54 volontari e ben 5 hanno partecipato al corso di operatori ELFO un corso molto impegnativo con lezioni teoriche e pratiche un esame finale davanti a una commissione composta da dirigenti regionali tecnici regionali e comandante regionale del Corpo Forestale dello Stato. Tra le ultime operazioni effettuate dalla protezione civile in questo 2016? Proprio l'ultima è stata l'alluvione di Pineto e devo dire che 12 ore prima stavamo spegnendo un incendio a Notaresco e lo stesso mezzo che è intervenuto per spegnere l'incendio di Notaresco la mattina dopo ha attaccato il carrello con la motopompa e tutta la giornata di venerdì abbiamo operato per svuotare i sottopassi e soccorrere la popolazione colpita dall'alluvione. La provincia di Teramo ha presentato i risultati del piano di contenimento dei cinghiali secondo la nota è stato abbattuto il 90% dei capi. Si sono concluse le prime due fasi del piano di contenimento dei cinghiali predisposto dalla provincia di Teramo assieme all'ATC Vomano e a quello Salinello. Oltre il 90% dei 294 capi previsti è stato abbattuto. Questi dati presentati dal presidente della provincia di Teramo, Renzo Di Sabatino assieme ai vertici delle ATC Franco Porrini e Francesco Sabatini. Risultati che sono stati giudicati soddisfacenti anche sul piano dei rimborsi per i danni alle coltivazioni. La provincia di Teramo infatti è stata l'unica in Abruzzo ad aver già liquidato tutti i danni del 2015. Sulle 313 domande arrivate 286 sono stati giudicati aventi diritto rimborsati al 67% del danno. Una percentuale di rimborso che è quasi raddoppiata rispetto al 2014. Concluderemo sicuramente supereremo il 100% degli obiettivi con l'ultima fase che si terrà nel mese di settembre. Quindi un risultato importante. I cacciatori hanno un ruolo sociale sul territorio che in questo caso è fortemente dimostrato con anche l'abbassamento dei danni alle culture agricole. Un piano quinquennale che si era proposto dall'anno scorso l'abbattimento del 50% dei danni nei 5 anni. Pertanto l'anno scorso abbiamo operato bene. Quest'anno stiamo operando anche bene. Ci auguriamo di raggiungere questo obiettivo anzi prima dei 5 anni. Sicuramente molto prima dei 5 anni. Un'altra cosa vorrei aggiungere per quanto riguarda il piano di controllo delle volpi che la provincia di Teramo insieme agli ATC ha portato avanti nel mese di marzo ed aprile. C'erano stati due ricorsi al TAR da parte di 6 associazioni ambientaliste e per la prima volta forse l'unica provincia di Teramo che è riuscita a vincere questi ricorsi in quanto non è stata concessa la sospensiva né al primo ricorso né al secondo. E pertanto il piano di controllo dei volpi andrà avanti. Volpi che erano malate così come sono state certificate dall'Istituto Zooprofilattico. Grande Folla a Sant'Egidio alla Vibrata per il concerto di Albano che ha ripercorso i suoi più grandi successi di 50 anni di carriera. Vediamo. Nel mondo dello spettacolo siamo abituati ad avere delle meteore poi ci sono i mostri sacri ne abbiamo uno qui a Sant'Egidio alla Vibrata in occasione della prima Sagra del Contadino Albano Carrisi che ha raggiunto l'Abruzzo grazie intanto di essere qui. Gli organizzatori della Sagra del Contadino hanno pensato bene di chiamare un vero contadino che canta e sono onorato di stare qui semplicemente perché so di stare in mezzo a degli amici so di parlare un linguaggio che capiscono e soprattutto parlare lo stesso tipo di linguaggio. Il canto d'amore con felicità ci sarà tanti brani che hanno raccontato un pezzo dell'Italia che è stata l'Italia degli anni Ottanta. Io da artista mi auguro che ne nascano altri 4-5 di quel genere lì perché è un evergreen e appena appena partono le prime note in qualsiasi parte del mondo succede il finimondo dalle prime note e ancora oggi dopo sono già 34 anni che esiste questa canzone felicità ancora oggi fa lo stesso effetto come ieri come l'altro ieri come 30 anni fa è fantastico e ripeto in tutte le parti del mondo. Lei è ambasciatore della musica italiana e quindi porterà l'Italia nel cuore e soprattutto nel bel canto quello firmato Albano Carrisi. Quello che faccio da 50 anni 50 anni di carriera dove buona parte del mio tempo l'ho speso all'estero. il mio tempo è un bel canto il mio tempo è un bel canto E la notte non verrà E proseguiamo con il cartellone estivo degli eventi perché a fare il colpo grosso è il comune di Francavilla che annuncia che il primo agosto in piazza Santo Alfonso ci sarà il concerto gratuito di Antonello Venditti. Vediamo. Nell'estate dei grandi appuntamenti estivi di Francavilla non poteva mancare il concerto del primo agosto. Piazza Santo Alfonso ospiterà Antonello Venditti. Un grande nome della musica italiana che non ha bisogno ovviamente di presentazione. Siamo orgogliosi di annullare questo concerto. Come sempre dai problemi nascono opportunità. Era prevista la data degli Air Twin and Fire. Ci siamo trovati in mezzo in questi giorni tra due gruppi che litigano tra di loro per l'utilizzo di questo nome. A quel punto abbiamo deciso di cambiare completamente strategia. Abbiamo avuto l'occasione di avere una colonna, un colosso della musica italiana qui a Francavilla che è Antonello Venditti. Abbiamo colto l'occasione a volo. Quindi il primo agosto vi aspettiamo in piazza Sant'Alfonso con Antonello Venditti in concerto. Gratuito per tutti. Sarà una serata veramente indimenticabile per Francavilla. A proposito di grandi eventi, poi ci sarà l'altro importante appuntamento, quello di dopo Ferragosto con la festa di San Franco. Sì, gli appuntamenti sono tantissimi. Ci sarà cena con gli artisti, ma c'è anche il Blue Bar con De Gregori e tanti altri. C'è il Carnevale estivo. Francavilla ogni sera offre almeno due o tre incontri per divertimento, cultura, arte, per tutto quello che si vuole fare. Senza dimenticare il concerto principale che è quello del 17 agosto con Elio e le storie tese che saranno in piazza Stazione. Quindi un calendario veramente ricco che si può seguire anche sul sito dedicato di Visit Francavilla al Mare e vi invitiamo numerosi. E Rosetto degli Abruzzi è stata inaugurata a Oro Musiva 16, la mostra internazionale dedicata al mosaico contemporaneo nella prestigiosa Villa Paris. Vediamo. 35 artisti in rappresentanza di 13 nazioni e 4 sezioni speciali. Ragazzi di bottega con 7 mosaicisti che hanno frequentato il laboratorio d'arte del maestro rosetano Bruno Zenobbio. E poi la sezione VART, Total Contemporary Art, SML Spring Mosaic Lab con 200 piastrelle realizzate dagli alunni delle scuole medie di Roseto ed infine il consueto tributo a un mosaico per tornareccio. E il menù ricchissimo dell'edizione 2016 di Oro Musiva che si potrà ammirare fino al 30 di ottobre nella bella cornice di Villa Paris, Rosetto degli Abruzzi. Musiva si trasforma anche in associazione per la formazione dei bimbi e appunto durante questa primavera è stata coinvolta tutta la primavera di Roseto degli Abruzzi in un corso di mosaico che ha permesso di produrre più di 200 piastrelle che oggi sono in mostra qui e che fanno compagnia alle opere di maestri di livello internazionale. Inoltre ogni martedì di fine mese alle ore 21 e 30 si terrà il martedì d'autore, una visita guidata alla mostra con l'intervento di un artista per conoscere da vicino l'arte espressiva del mosaico. Portare Musiva qui dopo che questa mostra è stata realizzata è fatta al Palazzo Medici Riccardi di Firenze, quindi è una location importantissima. Non è solo una mostra come si vede ma è anche lavori che sono venuti fuori attraverso ragazzi della mia bottega. Torna il Festival Arte in Canto diretto dal maestro Luciano Di Pasquale dal 21 luglio al 7 agosto nella cornice delle chiese delle piazze più suggestive di Basciano, Penna, Sant'Andrea e Cermignano. Vediamo. Dal 21 al 7 agosto nella cornice delle chiese delle piazze più suggestive di Basciano, Penna, Sant'Andrea e Cermignano torna Arte in Canto. La nona rassegna di musica lirica è promossa dall'associazione culturale Il Cantiere delle Arti in collaborazione con l'Unione dei Comuni, Colline del Medio Vomano e del Consorzio BIM di Teramo. Per noi è un grande onore ospitarlo all'interno del territorio dei comuni della vallata del Medio Vomano e del comune di Basciano in particolare. Basciano come sempre sarà tra i protagonisti. Stiamo cercando di aiutare e di fare quanto più possibile per questa valida iniziativa culturale perché pensiamo che questo tipo di iniziative culturali vadano quanto più sovvenzionate. Come ogni anno iniziamo con i due concorsi internazionali. C'è il concorso a ruoli, quest'anno l'opera concorso è la rita di Donizetti. Il secondo concorso è il concorso a premi. Il pubblico che parteciperà alla finale del concorso a Basciano il 23 luglio del 21 potrà esprimere la propria preferenza tra i finalisti del concorso. Il secondo impegno evento sarà il 24 a Cerminiano nella splendida cornice dell'ex palazzo Tartagliozzi. I vincitori del concorso si esibiranno con arie tratte dal repertorio italiano e internazionale. Il 25 luglio metteremo in scena la serva padrona alle 21 alla sala polifunzionale di Penna Sant'Andrea. Il 2 agosto i ragazzi che avranno partecipato al corso di perfezionamento di canto lirico si esibiranno nella chiesa di Basciano San Flaviano. Il festival si concluderà come ogni anno a Basciano in portapenta alle 21 del 7 agosto appunto con la rappresentazione dell'opera concorso alla rita di Donizetti. Ora torniamo a parlare di sanità con un'agenzia dell'ultimo minuto. Si parla del tavolo di monitoraggio che ha sancito l'uscita dell'Abruzzo dal commissariamento della sanità dopo nove anni. La maggioranza di centro-sinistra va sotto nel consiglio regionale straordinario convocato a Palazzo dell'emiciclo per discutere il piano sanitario di riorganizzazione. Un documento del centro-destra è passato a maggioranza per un solo voto di scarto 14 sì e 13 no e determinante per l'approvazione è risultato il voto favorevole del consigliere centro-democratico Maurizio Di Nicola, presidente della prima commissione consigliare, che si è schierato con le minoranze. Destino simile ha avuto il documento del Movimento 5 Stelle respinto ma con votazione in pareggio 13 a 13. In questo caso Di Nicola è uscito dall'aula. A quel punto, dopo aver capito di non avere i numeri, il centro-sinistra ha deciso di ritirare il proprio documento. Ora parliamo di un'altra rassegna. L'associazione culturale Barabba Sound ha organizzato nel prossimo weekend a Loreto Aprutino una rassegna intitolata L'O-Park. Vediamo di che si tratta. L'associazione Barabba Sound per il secondo anno consecutivo organizza delle giornate commemorative per Massimiliano Chiavaroli, un ragazzo dedito alla musica e alla compagnia. Siamo qui con Daniele. In che modo quest'anno volete ricordarlo? Quest'anno abbiamo organizzato una tre giorni con una kermesse musicale molto varia. Il venerdì partiremo con una serata dedicata alla Barabba Sounds. Infatti è una serata di supporto con dei nostri amici già conosciuti sul nostro percorso musicale e un gruppo di nostri amici di Loreto Aprutino. Il sabato continueremo con del rap e del funky con gruppi da tutta Italia, da Firenze e Milano e poi chiuderemo la domenica con un gruppo abruzzese dedito al folk blues americano e sono i Dago Red. Ci saranno anche stand gastronomici e un piccolo mercatino musicale con cd, vinili e strumenti. La partenza è prevista per le 4 di pomeriggio e la chiusura intorno alle 1 e mezza alle 2 di notte. Ora apriamo la pagina dello sport e iniziamo dalla Serie A e dal Pescara. Si è svolta nel tardo pomeriggio a Palena la prima uscita stagionale del Pescara. I biancozzurri in quella che è stata una sorta di sgambata hanno superato la rappresentativa locale dilettantistica del Palena Alto Aventino per 11 a 0. In gol nel primo tempo Cristante, doppietta di Manai, doppietta anche per Caprari e Rete di Biraghi. Nel secondo tempo le marcature sono state di Verre, Del Sole, Mitrita, Di Massimo e Zampano. Prima dell'amichevole in conferenza stampa ha parlato il capitano, Ladian Memushai, che ha raggiunto il ritiro domenica scorso dopo la positiva esperienza all'europeo con la nazionale albanese. Lo ascoltiamo. È stato un mese di giugno fantastico perché prima la promozione col Pescara molto sofferta da parte mia perché l'ho vista su un telefonino e poi c'è stato l'europeo e rappresentare il proprio paese in una manifestazione così importante penso sia una cosa delle più belle della mia carriera. Non ho mai pensato magari di andare via, poi giustamente le cose non dipendono solo da me, dipendono anche dalla società e dal mister. Quindi per ora non ho mai pensato di andare via e non mi passa per la testa. Io mi sono allenato poco personalmente anche con la squadra, però Gas lo conosco già da due anni fa e quindi ci può dare solo che una mano. Cristante non lo conosco io ma lo conoscono tutti quindi non c'è bisogno magari che dico se è bravo o no. Sicuramente se è stato preso dal mister, dal presidente vuol dire che è forte e chiunque verrà sicuramente ci darà una mano. Ora scendiamo in Lega Pro con il Teramo perché è ufficiale, perché Marco Sanzovini è entrato a far parte del Teramo. L'attaccante ex Pescara arriva in prestito biennale dal Delfino. Vediamo. Primo giorno, prime ore ufficiali di Marco Sanzovini come neo attaccante del Teramo. La punta romana arrivata in prestito per due anni dal Pescara ha firmato oggi pomeriggio il contratto con la società di Via Oberdan e questo pomeriggio ha effettuato le visite mediche, superate le quali sarà un nuovo giocatore di Lamberto Zauli. Questa sera al più tardi domani mattina raggiungerà i nuovi compagni per iniziare la preparazione. Ironia della sorte, arriva dal Pescara e il Pescara se lo troverà di fronte già domenica prossima nell'amichevole di lusso di Palena contro i Biancazzurri di Massimo Oddo. Ovviamente contento, soddisfatto Marco Sanzovini di aver chiuso questa trattativa che lo riporta in una regione che ama tanto. L'Abruzzo. Marco Sanzovini, prime ore da neo giocatore del Teramo innanzitutto. Sei contento per questa nuova avventura? Certo, sono molto contento. Non vedo l'ora di iniziare, se no non avrei trovato l'accordo. È un accordo che abbiamo cercato tutti quanti, io in primis e anche il Teramo. Ringrazio infatti il Presidente e il Direttore che mi hanno cercato e mi hanno anche aspettato. Con quali motivazioni arriva Marco Sanzovini a Teramo? Con le motivazioni di far bene, di dare il mio contributo, di far bene il mio lavoro, come ho sempre cercato di fare. Senti, questa trattativa a un certo punto sembrava quasi arenata. Che cosa è cambiato in questi giorni? Ma da parte mia verso il Teramo niente, neanche viceversa. Quindi col Teramo non c'era assolutamente niente. Dovevo sistemare alcune cose col Pescara che fortunatamente sono andato a buon fine. In questa squadra conosci già l'allenatore, ci hai parlato? L'ho sentito per telefono qualche giorno fa e poi ne ho sentito parlare. Intanto mi ricordo come grandissimo ex giocatore e anche come allenatore per le buone cose che ha fatto a Sant'Arcangelo. Questa si diceva probabilmente era una scelta di vita per Marco Sanzovini. Possiamo dire che la scelta di vita è una regione in Labruzzo? Sì, ho sposato questo progetto del Teramo e insieme quello del Pescara perché sono andato ad allungare un anno anche con loro, con la prospettiva poi di rimanere in futuro qui. Un saluto ai tifosi del Teramo se lo vuoi fare, il primo saluto? Un saluto chiaramente a tutti i tifosi del Teramo, spero di vederli allo stadio in gran numero, ad incitarci. Noi chiaramente daremo il massimo di noi stessi per questa maglia, per dargli tante soddisfazioni e niente, non vedo l'ora di cominciare chiaramente. Grazie. È tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento con l'informazione del Tg6 torna nell'edizione delle 23. Buona serata. Grazie.